bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi sfide di miascolo uscite da pochissimo ce n'è una in particolare che richiede una piccola guida dobbiamo danzare in tre location differenti la prima location ragazzi il lago delle canoe semplicissimo abbiamo già vista più volte tra moli molesti e corso commercio basterà semplicemente atterrare anche vicino proprio alle canoe per stare in tema con la sfida ballare lago delle canoe fatto il secondo atterraggio la seconda location ragazzi il camp cod molto molto semplice come vedete stiamo approdando all'isola quella in basso dopo brughiere brumose quindi davvero una cosa super fast potete approdare direttamente sul tetto dell'edificio principale ci atterriamo balliamo e location numero 2 fatta e siamo arrivati quindi all'ultima location rainbow rentals praticamente è semplicemente come vedete il colore delle case che forma un arcobaleno siamo nella spiaggetta quella alla sinistra di siepi da grifoglio quindi anche qua davvero una cosa super facile atterriamo su una casetta un piccolo ballo e avremo completato la sfida io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale io sono in live sulla piattaforma viola ciao ciao